Il picciotto del popolo o il bomber formato garanzia, il quesito frulla già da parecchio in testa a Bruno Tedino, almeno dal fischio finale del match vinto giovedì contro Lentella. Se il problema è stato possibile accantonarlo, visto il rientro lampo della punta macedone a poche ore dal match di Chiaveri, adesso in vista del recupero di Pasquetta con il Parma, i noti verranno al pettine e il tecnico rosa-nero dovrà prendere una decisione. Difficile che possano giocare entrambi, il centrocampo a cinque, così come schierato nelle ultime gare, ha dato solidità e certezze ed è remota la possibilità che Tedino smonti qualcosa per aggiungere una punta in più, anche perché in questo momento se c'è qualcuno di davvero intoccabile è cronato più vicino alla porta. Le tre reti consecutive sono il biglietto da visita di un lagumine in questo momento in gran forma. Ha lavorato tanto da punta in queste settimane durante gli allenamenti e i frutti. Si sono visti specie a Chiaveri dove, nella rete del momentaneo 1-0, c'è tanto di un attaccante completo. Dall'altra parte, Nesto Golle, oltre ad essere il capitano e leader tecnico di questo Palermo, viaggia a 12 reti in stagione, anche se l'ultima segnata oltre un mese fa all'Ascoli con tanta fame di tornare ad esultare. Non resta che aspettare lunedì un match importante, difficile e delicato contro un altro dei top team di questa Serie B, che potrebbe regalare il secondo post ai Rosa. Toccherà a Tedino scegliere chi buttare giù dalla torre.